Sono 12 le bandiere blu 2022 agli operatori degli stabilimenti balneari del territorio fasanese, consegnati al comune di Fasano e dal comune ai lidi della costa, in un passaggio di consegne che il concreto riconoscimento delle eccellenze delle spiagge di Savellete, Ignazio e Torrecanne. Per il dodicesimo anno consecutivo Fasano è stata premiata con questo riconoscimento che certifica la qualità delle spiagge italiane, in una cerimonia svolta presso Palazzo di Città, alla presenza degli operatori degli stabilimenti balneari, per un risultato che premia il territorio e il gioco di squadra tra istituzioni e privati. Un risultato che ci rende molto felici e un risultato dell'intera comunità, voglio ricordarlo perché la bandiera blu si ottiene attraverso la valutazione di diversi parametri legati alla raccolta differenziata, alla capacità di depurazione delle acque, alla capacità di erogare servizi per la balneazione. Quindi è una vittoria della squadra, una squadra della squadra Fasano, intesa come insieme di imprenditori e di istituzioni che da anni lavorano all'unisono per rendere questo territorio sicuramente più attrattivo e in grado di offrire servizi connessi all'attività turistica. Presentiamo quindi questo grande riconoscimento, a cui noi teniamo molto per il dodicesimo anno consecutivo che rappresenta il connubio perfetto tra gli investimenti del turismo e rispetto per l'ambiente. È un connubio a cui noi teniamo moltissimo e che rappresenta la cifra dell'impegno di questa amministrazione per il futuro di tutto il territorio.